Proposte. Io penso che l'intero centrodestra sia disponibile non da dopodomani, da domani a confrontarsi con lei e con i suoi ministri su alcuni temi molto concreti. Poche ore fa la conferenza delle regioni, unificate, senza distinzioni di colore politico, quindi anche le regioni governate dal centrosinistra, hanno approvato un documento piccolo, ma importante dal mio punto di vista, che io invito il governo a tenere in debita considerazione, perché se tutte le regioni dicono la stessa cosa non è una guerra dei sovranisti contro questo governo, è una proposta che probabilmente ha senso. L'Italia è la capitale mondiale del volontariato. Ora qualche burocrate, sicuramente lei non ne ha conoscenza, ha inserito negli ultimi decreti un provvedimento che obbliga tutte le associazioni di volontariato italiano italiano, anche quelle più piccole, ad aprire una partita IVA e a emettere fattura. È una follia che non sta né in cielo né in terra. Lasciamo che il mondo del volontariato occupi il suo tempo facendo volontariato, non compilando moduli per poi chiedere l'esenzione IVA. Disabilità. Ci sono sei milioni di italiani dimenticati, che sono rappresentati anche dagli amici del PD che si occupano di altro. Sei milioni di italiani dimenticati che hanno chiesto, a proposito dei fondi europei, che lo 0,1% venga destinato a progetti di abbattimento delle barriere architettoniche, lo 0,1%. Penso che sia cosa giusta che questo Parlamento, all'unanimità, dia una risposta immediata a questi sei milioni di cittadini italiani, che non sono cittadini di Serie B.